Ciao ragazze, come state? Spero bene. Nuovo video che grigio? Esatto. Allora, dunque, sì, non so, mi trovate con delle occhiaie nere, struccate e tutto quanto, però ho voluto lo stesso fare questo video che grigio di buonamattina, sono le 6 e, aspettate. Non mi riesci di vedere che sono, vabbè, non mi importa, comunque sono già le 6 qualcosa, stavo pensando di farlo alle 5, ma ho detto no, da un altro po', a caso me mi sveglio, ho perso le 6 e un quarto, infatti ho fatto così, scusate, oddio, sto ceffo malefico, e niente, eccomi qua a farvi sto video che grigio, e, intanto, ho già preso il caffè e anche il latte, tra poco comincio con le mie paciente domestiche, si fa per dire perché tanto poi vado a camminare un po', ovvero, a fare un qualche altro video, dove vi porto con me, e niente. E dunque, cosa dirvi, non so se riuscirò a fare tutti i video oggi o domani, perché poi mi sto ferma per un po', nel senso che non faccio più video, e lascio un po' andare il canale, però a sto punto ho detto, o lo faccio adesso o non lo faccio più, sto più ghiacchiera, e alla fine lo sto facendo. Già, poi piuttosto, cosa mi raccontate di bello? Io nulla di che, stiamo tuttando lenzito, però il resto è tutto ok, tutto a posto. A parte il caldo che ho fatto stanotte, ho già aperto casa, perché altrimenti non si vedeva la nozza per fare sto video, e niente, mi fa male po' qua, sta parte qua, però, me la cavo lo stesso, aspettate un attimo che state messe storte, ok. Come vedete la colazione, ovvero la postazione, sono in cucina, e sì, sono in cucina, quindi devo fare colazione, ho detto, perché non parlo un po' con le amiche di YouTube, è quello che ho fatto, eccomi. Proprio così, sì, lo so, i capelli che non sbaglio, non visti, ma a breve farò una bella ripristinata al capello, o lo lavo, o lo pettino bene. Lo c'è poco da pettinare, perché li devo rilavare, sono di nuovo, non dico pacchi, però se li lavo è meglio, non li ho stirati, perché è da anni che non li stiro più. Però quando li stiro, si spezzano, che è una cosa impressionante, quindi ho deciso di non stirarli mai più, di non piastrare più i capelli, perché mia nonna, scusate, si sta appena svegliando, tra poco si alza, se non è che ci sta già alzando. Comunque qui stavo dicendo, non piastrare più i capelli, perché non ne vale la pena, il mio capello già non è proprio rovinato, però mi dà una seconda chance di essere bello riccio, bello riccio, a posto e ben definito. Invece se io le passo la piastra, buonanotte, non risolvo niente, perché sono sempre lì a massacrarlo, povero capello, quindi capirete bene che non ho voglia di piastrarlo. Ecco perché vi viene detto in alcuni commenti, smettila di piastrare i capelli, non me li sto piastrando, non li ho piastrati da un bel pezzo, anzi, saranno anni or sono che non li sto più piastrando. Quindi, che cacchio mi dici a me, non piastrarti i capelli, smettila perché hai un capello che fa cagare, lo so che c'è lo che fa cagare, se non lo lavo e non lo pettino bene, come si può dire, è ovvio che il capello fa schifo, ma se lo lavo e lo disciplino bene, è un bel capello. Ma non mi venire a dire che io mi piastro i capelli perché non c'entra una mazza, quello che stai dicendo tu. Quindi, cara bella mia, maestrina saputella, prima di parlare, di aprire la bocca, sappi quello che stai dicendo. Scusa. Comunque, a parte questa piccola replica, ovvero polemica, sì, i capelli fanno bene così, tra poco appunto li laverò e poi le do una bella domata, ovvero li pettino, le faccio qualche rete. Non ho capelli ricci, non ho capelli ricci, sono già ricci, i miei capelli sono afro, già lo ripetisco, sono afro, sì, e io sono fieri di miei capelli afro. E quindi, perché non avere i capelli come i miei? È vero, sì, sono una lotta perché li devo sempre tenere i capelli ordinati a posto, ma il resto mi sta bene così. Vedete, questo ciuffo qua, non sta di nessuna maniera. Vabbè, pazienza, che ci volete fare. E niente. Dunque, so che vi è piaciuto molto quel video che c'è della buonanotte. Ho visto che vi è piaciuto, non ho fatto chissà che visualizzazioni, però chi se ne frega, ragazze. Alla fine è importante che se avete pensato a me, ma avete visto il video, perché mi fa piacere quando vi piacciono i miei video. E vi trasturano un po'. Non era un smr, ma è come se fosse stato un smr. E niente. Forse oggi pomeriggio vi farò qualche altro video, non lo so. Perché se vi faccio tutti i video insieme e non riuscite a starvi appresso, già lo so questo. Che tutte le volte succede così. E quindi li pubblico tutti in privato. Poi mano a mano, giorno dopo giorno, ve li sbologno. Ovvero, ve li pubblico. Che modo che ti dire. Ve li sbologno. Vabbè, in modo che ti dire che vi li pubblico. Basta dire solo quello, comunque. Va bene così. E sì. Ho deciso che man mano che io vi registro tutti questi video, oggi o domani, li metto in privato, li imposto e poi li pubblico a seconda del video che ho voglia di pubblicarvi. Non so ancora che video voglio fare. Ce l'ho portato sull'agenda. Però, dopo andare a rivedere, a rileggere ciò che ho scritto, ho deciso di registrare per voi. Ma anche per me. Perché io adoro fare video. Mi piace fare video. Io continuerò. Già. Vorrei ancora fare altri video vlog, ma non lo so. Vediamo un po'. Non li farò più solo fuori, ma li farò anche dentro casa. Ovviamente, riorganizzando il tutto e cercando di capire da che punto della casa voglio registrare. Scusate, ma ci sono delle notifiche allucinanti. Ovvero da Telegram, ma chi se ne frega. Mi sembrava che si stava per chiudere la registrazione, invece era solo notifiche. Meno male che ho chiuso il wifi. Invece no. Era aperto il wifi. Vabbè. Dettagli. Ho detto, ma ho chiuso io la connessa all'interno prima di registrare. No. Perché è aperta. Vabbè. No, aperta nel senso che non l'ho disconnesso al telefono. Perché sennò meritano un bizzofio di notifiche tutte assieme. E infatti è quel che è successo. Finora. Cosa farlo stamattina? Non lo so ancora, ragazze. Cosa farò? Però ho deciso già che sono pronta a affrontare la giornata. Nonostante non si dice oggiosa, ma uggiosa mi pare. Sì, uggiosa. Giornata abbastanza... Io direi più che altro. Meglio dire noiosa. No. Nuvolosa. Per non sbagliarsi. Può prima dire nuvolosa. Perché è nuvolosa. Comunque, ragazze. E ragazzi. Perché so che ci sono anche maschietti. L'ascolto. Mi si sta drumentando la gamba. Molto bene. È fantastico. Ciao. Sto aspettando che si sprovviglia un po' perché quando mi alzo non vorrei avere una gamba che non riesco a muoverla. Già. La gamba di sinistra, per giunta. Sì. Nulla. Appena posto pubblico altre foto. Non so se riuscirò altre foto su Facebook e Instagram. Se mi volete seguire su Facebook solo Melania Barzale. Aia. Aiaiai. Beh. Voi direte cosa c'è? C'è che la gamba non è vuole sapere di lasciarmi in pace questa gambaccia. Sì. È sempre il formicolio che mi si sta addormentando. Che è una cosa che neanche voi potete immaginare. Già. Aspettate un attimo che sto a porto e poi torno. Eccomi da voi ragazze. Forse un po' sono riuscita a calmare. 5 minuti dalla mia gambaccia. Più o meno. Ce l'ho ancora addormentata. Più a pieno. Si sta calmando. Il formicolio. Era come una... Sì. Si stava proprio addormentando la gamba. Comunque niente. E... Cosa volevo dirvi? Non so cosa farò ancora. Stamattina. Però... Cercherò di tenermi bella impegnata. A registrare nonché il solo video. E poi su Facebook. E vi... Nel mio profilo. Proprio avere proprio di Facebook. E... Vi pubblicherò delle... Alcune foto. E su Instagram. Youtuber. Melania Trattinova sotto. E... Vi metterò qualche history. Aspettate un attimo. Se riesco. Niente. Guardavo una cosa... Dentro un vasetto. Non vi dico il giusto che ho. Ma avete... Un vasetto che ho di fronte a me. Cosa c'è dentro? Meglio che vi evito la schifezza da dire. Quindi... No comment. Niente. Non è rilevante. Cioè non è importante da... Da... Da dirvi. Quindi... Passiamo oltre. Solvoliamo. Ehm... Dunque. Vi stavo dicendo. Non mi ricordo più. Ah sì. Che... Stamattina ho deciso di fare altre cose. Ma non so ancora cosa. Vi porterò. Come nel resto della giornata. Ma io non la trovo di a parte. Non in questo. Perché non so se in questo ce la posso fare. Non ne ho idea. Massimo massimo questo. Ve lo concludo. Ehm... Non lo so. Magari con altri tipi di... Ehm... Di discorsi che vi voglio dire adesso. O peroti. Cosa che vi sto facendo? Non mi ricordo più. Non mi ricordo. Ah. Ho fatto un sogno allucinante stanotte. A forza di vedere video sul paranormale. Mi sto facendo condizionare. Non poco. Ma... Eh... Non è poco. Ma... È una cosa bruttissima. Tra l'altro ogni tanto lo guardo. Eh... Il canale di... Floriana. Come si chiama? O Floriana. No. Floriana Scalici. Sì. No. Non è perché... Ce l'ho con lei. Ma... Era per dirvi... Oddio. Questa telecamera fa così. Comunque vabbè. Ce l'ho con Floriana Scalici. Perché... No. Non ce l'ho proprio con lei. Però... Era per dirvi che... Non lo so. Mi sembra strano. Sta roba. Del suo canale. Boh. Comunque non ho commento. Dopo questo video ve ne faccio altri. Ma non con questa telecamera. Ma con la fotocamera. Se riesco. Non è detto. Perché ho visto che fa... Dei strani movimenti questa telecamera. E non mi piace per niente. Quindi... Ho deciso che registro... Con la mia fotocamera. Canon. Vediamo cosa esce fuori. Non lo so. Ok. Se non che registro con l'iPhone. Ma l'iPhone è scarico. Boh. No. L'iPhone non è scarico. È il 99%. Poi controllo. Non mi ricordo. Questo telefono ve l'ho giustato. Ma è sempre lui. Cioè. Nel senso che è difettoso. Diventato. Quando l'ho giustato. Quindi ha... Ho deciso che... Tra poco riprendo l'iPhone. E ritorno a registrare con un telefono. Rompiballs. Rompiballs per modo di dire. Perché la batteria è una chiavica. Scusate il francisismo. Ma è così. Ogni due per tre. A mezza mattina. A bled. Cioè non posso fare. A mezza mattinata. Già scarico. La batteria. Intendo dire. E quindi. Di conseguenza. Mi tocca. Rimetterlo in carica. E ricaricarlo. Mentre sto facendo altre cose. Quindi. Non è sempre. Non è semplice. Registrare con un telefono. Che si scarica in combinazione. Mi tocca fare così ragazze. Che vedevo dire. O così. O niente. E nulla. Già. E niente ragazze. Io. All'omento. Mi sa che vi saluto qua. Perché non so chiude sono. Perché. Se guarda una parte. O dall'altra. Mi. Mi si sconcia. C'è una registrazione. A vero. Mi si interrompe. Io direi. Non lo so. Provo. Aspettate. Sono le. Sette e cinque. Ah. Ok. Sono le sette e cinque. Non so neanche se sia l'orario giusto. Ma. Ora. Provo a chiudere. La registrazione. E. Mo. Vi lascio. In suspense. Con un altro video. Che prova a registrare. Per adesso ragazze. È tutto. Io vi lascio. Con questo video. Così. Ovvero. Con questa faccia. Così. Perché. È quella che. Dovete tenere. Nel senso che. Tra poco vado. A sistemare altre cose. E poi vedo. Di sistemarmi io. E mo. Ci si vede. Al prossimo video. Dopo di questo. Ovviamente. O video vlog. Col telefono. Con la fotocamera. Non importa. Importante. Che mi riesci. Di riregistrare. Altri video. Riregistrare. Come se. Se avessi già registrati. No. Vabbè. Non ci siamo. Come. Vabbè. Come non detto. Allora. Dopo di questo. Vi stavo dicendo. Registro un altro video. E ne registro un altro ancora. Poi vediamo. Se riesco a montarli tutti. Perché. Non è detto. Va bene. A presto. Ciao. Un bacio. Mettete like. Se vi è piaciuto il video. Fatemi sapere. Appunto. Con un bel commentino. Qua sotto. E noi. Ci si becca. A un prossimo video. Ciao. Attivate la campanella. Seguitemi su. Instagram. Youtuber. Melania. Trattino. Passo. Ciao. Buona mattinata a tutte. E a dopo. Con questo. Giù fuori belle. Ciao.